Chi non l'ha vista non può immaginare che nel primo tempo c'è stata una serie di mese dominante andata in vantaggio e meritava forse anche qualcosa di più forse è arrivata una sconfitta a beffare dalla fine Sì, forse non abbiamo fatto sicuramente la partita del primo tempo abbiamo perso un po' di campo appena iniziata però abbiamo messo quattro punti in avanti e abbiamo perso due metri, diciamo che il primo tempo non aveva fatto però appunto per come è situata la partita di tutti gli avanti minuti penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e corretto o no? Sì Visto che comunque avete fatto un tempo per uno Sicuramente il pareggio era il risultato più corretto alla fine però siamo qua a parlare di un'altra partita Come giudichi il campionato? Scusate quali possono essere le più rispettive per la serie mese adesso siete sesti, non staccatissimi però comunque avete tante squadre davanti Sicuramente non mollare più nell'ultima partita fare sempre il nostro e continuare su come abbiamo sempre fatto dall'inizio del campionato lottare partita dopo partita e giocare a calcio come sappiamo fare